Ciao, sono Gabriele e sono qui per presentarvi una nuovissima puntata della PM Podcast. Oggi avremo come ospite Marco Trivellato, con il quale parleremo di cinema, doppiaggio e colonne sonore. Buon ascolto. Eccoci qua. Eccoci qua. Beh, Marco, sicuramente è interessante capire come si è qua adesso, com'è, che cosa ti ha portato ad essere qui tra tutto quello che è stato fatto nella tua vita. Che cosa mi ha portato? Mi ha portato Mauro Loggia, non dovrei dirlo però, forse questa cosa forse è meglio non registrarla. No, Mauro è venuto a lavorare nello studio dove lavoravo io e quindi si è creato un certo feeling rispetto al reciproco, insomma una stima e quando lui è stato delegato a raccogliere risorse umane per la PM si è ricordato di me. Fantastico. E io sono qui da 21 anni ormai. 21 anni? 21 anni di onorato servizio. L'arco di questi 21 anni, immagino insomma oltre ad aver conosciuto centinaia di ragazzi che adesso magari hanno intrapreso il mondo del lavoro per quanto riguarda l'audio in generale, il video in generale, ma quanti ragazzi effettivamente hanno intrapreso la strada, magari quella cinematografica per quanto riguarda anche l'aspetto delle colonne sonore? Ma tantissimi, tantissimi. Ci sono dei fonici di piazza diretta a New York della PM, non sto scherzando. Abbiamo avuto il notorio primo italiano agli Abirod, insomma che si è occupato praticamente solo di colonne sonore, perché ormai gli Abirod fanno solo quello. Quindi insomma abbiamo una discreta e nutrita serie di ex allievi un po' in giro per il mondo addirittura. Il mondo delle colonne sonore, a parte un aspetto personale, è un concetto che a me appassiona molto, però mi rendo conto che anche conoscendo i miei colleghi, compagni di classe o anche gente del settore della nostra età comunque è un po' il sogno del cassetto veramente di tanti. Cioè l'esigenza creativa, artistica, di far parte di un aspetto molto più grande che può essere la musica e basta, la musica è magari l'aspetto pop. Diciamo mettersi a servizio di un qualcosa che non è la musica. Sì, beh. Perché magari da parte di un musicista che invece è sempre mentalmente magari sempre impostato a voler avere un'immagine più risalto ha magari questa esigenza? Ho capito, tu dici è una figura un po' sottesa all'interno di un organismo superiore che non lo veda come protagonista in questo senso. Ma non saprei, però sicuramente c'è da dire che l'aspirante compositori musica da film è uno che ha voglia di raccontare qualcosa. Cioè la musica da film prevede un compositore drammaturgo, ecco, che si metta un po' a servizio della narrazione ma che sfrutti anche, come dire, le possibilità espressive della musica in funzione narrativa. E questa parabola probabilmente interessa molti. E poi anche l'immediatezza, insomma, del fatto che è possibile godere in una misura, insomma, di musica seria anche in qualche modo, dell'apprezzamento del pubblico in modo quasi immediato, insomma, ecco. Come nelle pubblicità, insomma, si cominciava a fare i jingle pubblicitari perché pochi giorni dopo potevi vedere in televisione quello che avevi fatto, insomma, avere una misura anche del tuo lavoro. Certo, cosa che con la musica, col mondo discografico è sicuramente molto più prolungati nei tempi in quel senso. Soprattutto nella forma della musica seria, insomma, che prevede poi un certo tipo di collocazione che invece nel cinema è più... I mezzi sicuramente, col fatto che sono cambiati, ovviamente adesso c'è un po' più di immediatezza, quasi eccessiva, si potrebbe dire in certi casi. Però è vero, cioè è molto più immediato in questo senso. Per un compositore serio potersi affermare in un contesto, come dire, non dico discografico, insomma, è comunque molto difficile di esecuzione. Mi ha incuriosito molto quando hai detto ci sono comunque allievi che sono fuori, sono all'estero obiettivamente, che lavorano nella musica da cinema, che mi incuriosisce molto capire effettivamente se ci sono delle differenze nell'approccio lavorativo in quello che è la musica da cinema che si fa in Italia e che si studia eventualmente in Italia e invece come si lavora effettivamente all'estero in alcune situazioni. Allora, l'approccio fondamentalmente esteticamente dovrebbe essere lo stesso. C'è una differenza di, come dire, di concetto forse, di... Cioè, alla musica da film europea, italiana, spesso, insomma, viene richiesto un approccio un pochino più, come dire, subordinato a un costrutto esterno, ad un preconcetto, considerando che magari è un po' più debole dal politista compositivo, devo dire, molto spesso, si appoggia magari alla musica popolare o cose di questo tipo. Perché vengono utilizzate anche magari di più musiche edite anziché... Ma non solo, non solo, perché i compositori, insomma, si rivolgono ad un interlocutore che a volte non è in grado neanche forse di richiedere altro che questo tipo di... Questa cosa l'ha sofferta molto anche Morricone, insomma, che lamentava il fatto che i registi non gli chiedessero nient'altro che delle melodie, ad esempio. Quindi, come dire, trascurando le possibilità espressive dell'orchestrazione, del ritmo, del timbro, eccetera. Beh, sempre per... rimanendo nel discorso musica, è molto curioso anche capire come viene fruita questa musica per il cinema da chi non è nell'ambiente, da chi magari non... magari anche semplicemente non si intende di musica, potrebbe essere una cosa... una cosa semplice, è capire... cioè, quanta differenza c'è tra una persona che crea musica per il cinema oppure chi semplicemente va a vedere un film e guarda la pellicola, ma non... si fa solo trascinare dalla musica senza effettivamente... Secondo me non c'è nessuna differenza. Wow, bellissimo. Non c'è nessuna differenza. Il linguaggio cinematografico, per quanto complesso, codificato, eccetera, eccetera, è leggibile nella misura e questo credo di averlo anche già detto tempo fa, è leggibile nella misura dei repertori stilistici che abbiamo accumulato dentro di noi, sono i film che abbiamo visto, che ci danno una chiave di lettura. La stessa cosa la musica, cioè non c'è bisogno di aver fatto chissà quale corso universitario per poter cogliere queste cose, le puoi cogliere più o meno consapevolmente, ecco, di fatto. Ma quel tipo di approccio lì un po' totalizzante, un po' onirico, insomma, che è quello del cinema, ci consente di entrare anche sotterraneamente? Volevo sapere che cosa ne pensi del fatto che comunque, magari è così effettivamente da un po' di anni, però ora come ora c'è proprio il fenomeno della colonna sonora di un film che comunque puoi trovare sulle varie piattaforme di streaming è come se effettivamente fossero delle musiche, delle canzoni Autonome Esatto, che possano accompagnare qualcosa che non sia l'oggetto per cui è stata creata quindi il film, il cinema, la serie Allora, ci sono due aspetti Il primo è una deriva commerciale, discografica Cioè esiste un prodotto musicale che ha un suo, come dire, pubblico di appassionati che colleziona, che ascolta colonna sonora E in qualche modo si abbandona un po' a quel abbandone donistico di cui parlavo, no? Del fatto di fantasticare chissà di cosa, eccetera Molta musica da film è disseminata di falsi stimolanti È una specie di eccitante, ansiolitico che viene usato in varie modalità a scopo personale o addirittura per una diffusione, come dire, più variegata L'altro aspetto è che la musica da film in pacchetto, diciamo, da acquistare viene anche confezionata discograficamente Una volta non era così E cioè, molto spesso nei dischi delle colonne sonore non trovi la colonna sonora vera e propria ma ha una sua forma edulcorata destinata ad una agevolezza, ad una facilità d'ascolto che ti gratifica un po' di più rispetto a quella vera del film Mi capita spesso nelle lezioni di cercare di modernizzare un po' il mio repertorio che avrete visto è un po' vetusto e molte volte non ci riesco perché non riesco a trovare le risorse della colonna sonora completa da accostare all'immagine perché il prodotto discografico, al quale attingo ovviamente molto spesso non corrisponde alla musica da film effettivamente utilizzata ma è stato tagliozzato, modificato A livello proprio di lavorazione A livello di forbici, per fare il disco C'è una figura professionale che si chiama Music Supervisor Supervisore alle musiche che si occupa tra le altre cose anche di questo confezionamento di questo prodotto si interfaccia con la casa discografica e redige, diciamo così qualcosa che possa essere di buon ascolto quindi il fenomeno della colonna sonora è che da una parte si è, come dire caratterizzata in una deriva spettacolare insomma che agevola questa voglia di emozione, diciamo così e dall'altra perché viene prodotta viene elaborata come un prodotto vero e proprio quindi è godibile anche per sé però in realtà è un grosso errore insomma è una fallaccia è successo anche, vi racconto un aneddoto perché è interessante non dico chi ovviamente ma un notissimo, estimatissimo studioso di musica da film che io apprezzo molto, tra l'altro purtroppo è anche mancato che in un suo libro su Morricone dice una cosa non rendendosi conto di quello che dice volendo elogiare Morricone di cui divenne poi amico insomma dice che la musica del famosissimo Mission che forse qualcuno ricorderà l'oboio di padre Gabriel eccetera eccetera nel film non ha avuto la giusta evidenza e dice quindi se volete cogliere veramente la straordinaria possibilità espressiva della musica di Morricone la trovate nei titoli di coda ma soprattutto nel disco ma stiamo parlando di musica da film musica che dovrebbe avere un senso solo nell'adesione con l'immagine con la vicenda drammatica eccetera se è godibile nella sua massima espressione in un disco vuol dire forse che ha fallito il suo scopo era più musica da disco in realtà no è una musica perfettamente adeguata ma c'è questa deriva concettuale secondo la quale insomma in qualche modo per come dire rendere agiografica questa definizione insomma ci si è spinti verso il paradosso curiosa questa cosa mi incuriosiva anche dalla domanda di Andrea la questione di quanto magari c'è una necessità per le persone di avere una colonna sonora per la propria vita per quello che sta vivendo ma questo è un uso personale come dico sempre si può usare la musica per uno scopo individuale faccio sempre questi esempi un po' banali del soldatino che cammina spedito al ritmo della marcia militare al nottambulo che si eccita con musica e sua denti eccetera eccetera però questo è un uso della musica un uso perdonatemi il bisticcio strumentale nel senso che la usiamo per ottenerne un qualche tipo di beneficio io uso la musica per studiare c'è la musica da ascensore la musica da meublement da arredamento come diceva Satie no però non stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con l'arte allora c'è un habitus che dobbiamo vestire diciamo così in relazione ad un nostro rapporto con la musica come forma espressiva come forma d'arte alto ed elevato quindi una valutazione di tipo estetico che serviamo ovviamente ad un momento di maggiore levatura umana ed esistenziale e poi però possiamo usare ovviamente la musica per quello che ci pare come una qualunque droga insomma un'eccitante per carità non c'è niente di male le mucche del Wisconsin fanno più l'arte come dice Barico quando ascoltano Mozart questo non ha niente a che fare con la musica però ecco il discorso è questo cioè è un uso una funzione collaterale o un effetto collaterale della musica che pur possiamo gradire assolutamente la musica mi fa stare bene cioè queste cose qua va benissimo per carità lo sanno benissimo insomma quelli che usano la musica in questo modo c'è la musica da ballo il rock quello diciamo gli usi della musica sono restano degli utilizzi un modo di utilizzare quello esatto però di per sé è un se volete anche in maniera greve è un prodotto che possiamo che possiamo prendere prima dei pasti e dopo i pasti a digiuno per carità poi però c'è qualcosa invece che attiene alla forma alta dell'espressione umana all'arte all'estetica insomma e lì dobbiamo cambiare gli occhiali cioè togliere gli occhiali teoretici insomma di questa vulgata del benessere e vedere la musica come forma espressiva come forma espressiva forma d'arte con tutte le varie contaminazioni tutto quello che è poi il collegamento con altre forme d'arte che ci sono come dicevamo prima appunto ognuno fa fa della musica ciò che vuole mi sembra più che legittimo ci mancherebbe altro anzi forse è uno dei motivi per cui è distante tutta questa musica sicuramente meno male però quello che voglio dire è che da addetti ai lavori dovremmo scusatemi l'accento prima gli addetti ai lavori dovremmo avere un approccio quando ci mettiamo in quel in quel contesto in quelle vesti insomma un po' più avveduto ecco diciamo beh parlando di cose sempre forse fuori dal creativo dall'artistico parlando di doppiaggio in Italia sappiamo che oddio sono frasi fatte forse però c'è questa frase che si sente dire spesso siamo i migliori abbiamo sempre fatto grandi cose e altro è molto curioso come ci si è arrivato come si è arrivati effettivamente a doppiare così tanto ad avere così tanta importanza in quel mondo lì e invece fuori da fuori da questo paese sembra molto molto più preso sotto gamba forse non è sotto gamba la parola sbagliata però non in tutti i paesi non in tutti i paesi c'è la stessa usanza dell'Italia per quanto riguarda il doppiaggio sicuramente anche i numeri noi doppiamo il polacco fuori campo che fa tutte le voci allora da una parte noi ce la suoniamo e ce la cantiamo dicendo che siamo i più bravi sempre per rimanere in APM ricordo qui un'allieva molto talentuosa che veniva dal nord adesso non mi ricordo dell'Europa e che parlava benissimo italiano insomma una soprano tra l'altro e mi ricordo che mi disse io ci ho messo due anni a digerire il vostro doppiaggio come diceva Barbetti la voce di Robert Redford diceva sembra sembra che abbiano una radiolina in tasca mentre parlano i personaggi cioè sentì la voce di un altro mentre doppiaggio è una mediazione culturale io mi occupo di doppiaggio da tanti anni quindi sembrerebbe che io sputti nel piatto in cui ho mangiato e mangio tuttora ma non è proprio così insomma però mi rendo conto che il mio atteggiamento è sempre stato un po' come dire critico nei confronti del doppiaggio da cinefilo da appassionato di cinema insomma ho sempre visto il doppiaggio un po' come una forzatura una sovrascrittura eccetera un mare necessario per carità però avendo però vissuto sei mesi all'anno negli ultimi cinque anni negli Stati Uniti ho capito che il doppiaggio in realtà è anche una vera e propria mediazione culturale cioè ci aiuta in qualche modo attraverso questo modo che è un modo tutto nostro di 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 tradurre in qualche modo insomma in italiano un'altra lingua ci aiuta a comprendere una società e una civiltà che altrimenti sarebbe assolutamente aliena i pomeriggi passati davanti al Super Bowl i i liquori messi nel nei sacchetti di carta cioè comprendere contesti stranieri che ci sono assolutamente strane però con la lingua e con il linguaggio anche che ci appartiene perché è un lavoro che si fa moltissimo e chiaramente anche un aspetto della traduzione però in virtù comunque del modo che abbiamo noi di comunicare forse il modo che abbiamo noi se volete il modo che abbiamo noi di interpretare il doppiaggio ha una radice in realtà lontana e storica nel senso che c'era una legge dello Stato ai tempi del ventennio fascista che imponeva all'adattamento dei dialoghi cioè la trasposizione della traduzione letterale in modo che si adegui al sincronismo labiale diciamo così un livello alto e cioè non si poteva usare un linguaggio piano colloquiale quotidiano visto che il cinema era una possibilità di alfabetizzazione si pensò di utilizzare questo vettore per far trappelare la lingua italiana anche nelle classi sociali insomma meno attrezzate diciamo così e allora c'era una legge che impediva di scendere al di sotto di un certo registro questo registro linguistico è rimasto insomma portando il doppiaggio insomma in una zona di siderale bellezza un po' polverosa insomma con le voci di cigoli eccetera che non parlano neanche un italiano vero insomma tra l'altro già l'italiano non è una lingua parlata lo sapete l'italiano è una lingua profondamente letteraria come diceva Pasolini e non è una cosa mia e quindi ancora di più insomma questa idea della scrittura si sovrappone alla recitazione alla spontaneità alla recitazione adesso disincantata del Beto Stanislavski dell'actor studio che usano i diatori americani però c'è sempre questa sovrascrittura un po' più alta rispetto alla quotidianità della vita rappresentata nel cinema ad esempio americano in un certo senso anche forse la lingua di per sé come dicevi lo permette forse o lo richiede addirittura e lo richiede ottimo e a questo punto mi verrebbe da chiedere attualmente ci sono i mezzi per guardare una qualsiasi opera cinematografica in lingua originale o in lingue diverse insomma e quindi l'idea di spronare magari una persona a guardare in lingua originale piuttosto che doppiato cosa questo è un problema è un problema atavico dal quale non so dare assolutamente una risposta il cinefilo talebano ti direbbe meglio i sottotitoli del doppiaggio meglio la lingua originale a tutti i costi io ti direi di no io ti direi di no è ancora un'operazione che può essere interessante e salvifica però deve denunciare se stesso in maniera deontologica ecco questa è una cosa che posso raccontare interessante io ho avuto un breve periodo romano nel quale sono stato abbastanza a contatto con grande mixatore di cinema italiano ha fatto tutto Fellini ha fatto Moretti e poi il cinema americano che veniva qua e lui aveva un approccio diverso dal mio io quando mixavo cercavo di rendere molto mimetico il doppiaggio dentro il film insomma farlo diventare quasi una presa diretta e faticavo molto per fare questo perché le voci microfoniche del doppiaggio insomma hanno una sonorità che era difficile conformare poi ad una sonorità invece molto più viva molto più anche grossolana come quella della presa diretta e quindi lavoravo il triplo vado a Roma vedo questo qua che è un guru del mixaggio e non fa niente e mi chiedo perché allora ho detto mi scusi poi ci davamo del tutto ma io mi faccio un mazzo così chiedo scusa insomma per fare suonare il doppiaggio come fosse una presa diretta e tu non fai niente perché e mi aspettavo dottore non c'ho voglia che me frega no e invece mi ha detto una cosa che mi ha lasciato esterrefato mi ha detto il doppiaggio è un male minore diciamo così no un problema che una ferita inferta insomma all'opera d'arte che in qualche misura dobbiamo tollerare se io lo mostro come tale e non cerco di edulcorarlo lui si autodenuncia insomma in qualche modo è una forma deontologica di dire lo metto ti accorgi che c'è e quindi insomma lo legittimo in qualche modo no autorizzandolo è una scelta denunciandosi e mi ha fatto pensare da quel momento tra l'altro io ho smesso di farmi un mazzo così chiosamente visto che lui faceva così no a parte le battute insomma però l'idea deontologica del doppiaggio che si denuncia in quanto tale in quanto sovrascrittura e quindi è molto evidente anche nel mixaggio si dice il mixaggio all'italiana dove le voci sono più in primo piano rispetto all'originale questo non è solo un retaggio italiota che tra l'altro si può anche verificare nella musica nella discografia eccetera nella fattispecie del cinema è un modo per come dire palesare una forma di manipolazione che però è schietta voglio dire è schiettamente dichiarata è onesta insomma questo mi è mi è piaciuto molto pensare al fatto che il doppiaggio insomma nonostante sia qualcosa di inferente può essere considerato comunque quindi quindi c'è una forma d'arte legata al doppiaggio sì però diciamo una cosa il doppiaggio è un modo non c'è nessuna verità lì dentro c'è la mimesi ma non la verità ne parlavo ieri con un doppiatore un attore molto bravo che viene dal teatro però e che sta facendo doppiaggio sta cominciando a potrebbe già farlo perché è bravissimo però deve entrare un po' e si poneva questa questione dell'autenticità della verità visto che in teatro comunque si cerca un po' un po' di verismo un po' di ecco e ne abbiamo un po' parlato insomma è venuto fuori questo discorso della non c'è nessuna verità mi dispiace insomma ci sono una serie di modalità espressive che il doppiaggio ha codificato in decenni vogliamo dire dico una roba brutta di preset ai quali il doppiatore attinge per esprimere in modo partecipato eccetera eccetera un certo tipo di attitudine che diventa adesiva diciamo di quello che si vede sullo schermo eccetera il riferimento è sempre l'attore che stai doppiando ovviamente cerchi di entrare il più possibile nel personaggio però non è un transfer di tipo brechtiano non lo so insomma è una cosa più più razionale diciamo in un certo modo e soprattutto si attinge ad una modalità questo non vuol dire però che questa questa codifica bidimensionale dei personaggi molto più affini alle maschere della commedia dell'arte che a personaggi che hanno una loro dimensione narrativa no niente a che vedere con un protagonista di un libro in un film il personaggio è una maschera è molto piatto non è profondo il doppiaggio ancora di più assottiglia questa 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 maschera nonostante questo però c'è insomma questa possibilità di creare una sorta di coesione fra la voce e il personaggio ci sono dei problemi insomma che ci portiamo dietro la fonogenia per esempio le voci del doppiaggio sono belle voci se vi ascoltate il che ne so io il Giulio Cesare di Manchieviz c'è Marlon Brando che fa il famosissimo monologo di Antonio Romani amici con cittadini vengono a seppellire Cesare quello lì se lo sentite in originale sembra uno del Bronx con il chewing gum ma sta facendo Antonio no? ma Bruto è un uomo d'onore ecco il doppiaggio italiano in un'operazione molto strana di regia in cui c'erano appunto i peplum e una recitazione all'actor studio cioè da 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 vicolo del Bronx il doppiaggio italiano ha un po' salvato questa cosa restituendo un'aura un po' teatrale un po' ampollosa anche se volete che però lì ci sta bene insomma ecco se noi cercassimo di filologicamente di attribuire ai ai personaggi delle voci omofone non so come dire faremo un'operazione filologica che il doppiaggio non ha mai fatto cioè la donna fatale ha la voce sexy la gioia di mamma ha la voce un po' più più consolatoria l'avaro parlerà così eccetera eccetera cioè ci sono una serie di stereotipi vocali che si attribuiscono ai tipi rappresentanti Vittorio Gasma faccio un esempio lo conoscete tutti è stato un grandissimo attore di teatro forse il più grande attore di teatro di quegli anni nel film Riso Amaro fa il cattivo Vittorio Gasma grandissimo attore voce straordinaria è doppiato da un altro da quello che faceva i cattivi nei film di quegli anni ma non per una forma di protezionismo perché c'è un'affezione e una come posso dire sonorità che deve essere attribuita in un certo modo a seconda del carattere neanche del carattere proprio dello stereotipo del personaggio è una questione cioè di mettere lo spettatore in una sorta di comfort zone più o meno fargli ascoltare una voce che gli è familiare già gli dice delle cose sul personaggio consuetudinaria certo assolutamente un altro esempio Melanie Griffith diva degli anni 80 ha una voce terribile si è sentito in originale sembra un'oca spennacchiata che urla alla luna in italiano è doppiata da un'attrice che parla così con questa voce bella da donna però non fatemi fare la donna ho fatto l'uomo l'idea era quella perché si ricerca la fonogenia questo è un limite fortissimo però è una caratteristica del nostro doppiaggio il doppiaggio spagnolo quello francese quello portoghese per noi sono inascoltabili se posso dire senza offesa per nessuno però è una roba autoreferenziale ecco quello lo posso dire cioè ci riferiamo al doppiaggio insomma in un modo anche un po' come dire a geografico ma non forse non è così giusto però c'è questa polvere stellare insomma che eh pensate non so a Cigoli che fa William Holden in Viale del Tramonto nella piscina con la voce fuori campo racconta la sua storia insomma sono quelle sonorità che ci ricordano il cinema con le sedie di legno che se tu t'abbassavi su una sedia tutte le sedie della tua fila si abbassavano insieme a te eh non c'erano neanche i pop corn si ciucciavano i semi di zucca salati a quel tempo eh quindi pensate questo è bellissimo è fantastico è bellissimo metti 5 lire questa cosa ha portato anche ad avere degli attori Hollywood degli attori insomma in generale che sono associati a una determinata voce quasi fa strano sentire degli attori che non hanno il loro doppiatore classico ormai ci sono attori americani che hanno la voce di Luca Ward per esempio per dirne uno a volte mi viene difficile magari un po' per abitudine mi viene difficile ascoltare proprio la versione originale perché per me quella faccia lì la associo a quella voce di questo è successo con De Niro con Al Pacino con Dustin Hoffman con la Mendola però questa è una cosa generale del cinema cioè il cinema è consolatorio ho già detto una volta credo non cerchiamo di nuovo la novità cerchiamo la continuità il ripetere riconoscere cose che già la stessa storia davanti a un piatto di minestre insomma la stessa favola e quindi cosa c'è di più consolatorio di una voce che è indissolubilmente legata ad un volto insomma è ancora più come dire amabile ecco non so come come dire beh abbiamo fatto hai fatto in realtà un sacco di nomi un sacco di titoli e quindi a sto punto è arrivato il momento di chiederti tre film dell'isola deserta si che oddio che salveresti dall'apocalittura ah dalla dirittura perché qua c'è anche secondo me un bel gioco mentale sul fatto che comunque dopo un'apocalisse se ci sono solo quei tre film quei tre film segnano anche una sorta di passaggio culturale che c'è dietro no speriamo che l'apocalisse estinga estingua tutti tranne un altro essere magari di sesso femminile possibilmente io porterei un libro pensavo stessi dicendo speriamo estingua il concetto di cinema no ma quello si estinguerà da solo e lo sapete il cinema è nato morto sono frasi pungenti sono fantasmi quelli che vedete è già dato è già stato qualunque cosa che vedete è già successa eh porterei un libro ma se devo portare dei film porterei tre film ma direi anche un po' inaspettati per non dire sempre le solite cose insomma allora io porterei La vita è meravigliosa di Frank Capra nel 1940 con James Stewart Donna Reed Barrymore è un film di Natale è la storia dell'angelo Clarence insomma che salva un uomo dal suicidio facendogli vedere la sua vita come sarebbe stata la vita degli altri senza la sua finisce con Tom Sawyer insomma libro dell'infanzia a cui siamo affezionati finché vi consiglio perché la struttura del film di Capra è la struttura liturgica tripartita dei tre atti insomma di qualunque film hollywoodiano il secondo film è un film italiano porterei Il sorpasso di Dino Risi con Vittorio Gasman e Gianlui Trentignan che è l'epopea del boom fra floridi commendatori e bichini traboccanti sulle spiagge dove si si celebra il rito pagano del consumismo lo ricorderete spero l'abbiate visto un film meraviglioso pieno di battute sagaci la sceneggiatura è di Scola e Maccari due geni poi Scola è diventato anche un grande regista ma è stato anche uno straordinario sceneggiatore ogni secondo del film è una trovata strepitosa film molto amaro ed è l'archetipo insomma della commedia l'italiana il titolo inglese del sorpasso è Easy Life ed è un film On the Road il sorpasso la storia di un di un di un ferragosto su un Aurelia Sport lungo la strada ed è l'archetipo dei film On the Road fra cui Easy Rider che si intitola così proprio in omaggio al sorpasso ah ok opere eccetera hanno visto il film e hanno detto questo è il nostro papà dieci anni prima più di dieci anni prima perché Easy Rider del 69 quindi insomma 9 anni prima 10 anni prima non so fare i conti il terzo film è un film molto strano un film degli anni 80 guarda caso si chiama Turista per caso di Lawrence Kasdan che è un film che avrei voluto scrivere io Kasdan è stato sia regista che sceneggiatore vi ricordo come sceneggiatore Star Wars Indiana Jones Chiamami Aquila eccetera eccetera e regista di alcuni film che sono anche lì nelle scuole di sceneggiatura come Brivido Caldo Il Grande Freddo titoli simili ma è così questo Turista per caso poi Silverado insomma adesso è un po' sceso insomma nella produzione è ancora vivo suo figlio si sta dando da fare però questo piccolo film con le musiche di John Williams Turista per caso premio Oscar a Gina Davis come miglioratrice non protagonista è un piccolo gioiellino insomma di di dramma personale la storia di uno scrittore che fa guide di viaggio e spiega agli altri come fare ad andare in posti meravigliosi senza muoversi virtualmente da casa cioè il suo logo è una poltrona con le ali e quindi tu sei a casa tua anche se sei in un qualunque altro posto questa è una cosa bruttissima terribile concettualmente esatto e lui vive questa situazione insomma di difficoltà esistenziale ma trova una destratrice di cani che lo aiuta a trovare una strada è un film molto molto io lo trovo molto interessante molto bello che mi è sempre piaciuto insomma sono film strani non sono i capolavori memorabili però ve li consiglio in ogni caso se non li avete visti però a questo punto è una domanda è d'obbligo tre colonne sonore che salveresti dall'apocalisse che possono fare scuola che possono essere ah tre colonne sonore non me l'aspettavo vabbè allora e ti John Williams e non dico solo John Williams così evitiamo di posso mettere a pari merito due film hai fatto una classifica prima? no a pari merito nel senso che vorrei dirne due dello stesso ma ne consideriamo una sola ok Morricone c'era un'altina in America e il nuovo cinema paradiso eh insieme al figlio Andrea perché il tema d'amore di il nuovo cinema paradiso è del figlio sì sì non sapevo ottimo chitarrista bravo compositore e il terza la terza colonna sonora ne avrei tantissime ma magari una che magari di qualche più recente ce l'ho ce l'ho ma non mi ricordo il nome del mi sembra che si chiami David Julian ma non sono sicuro quindi mi smentiranno poi i spettatori del podcast ed è la colonna sonora di The Prestige di Nolan un'interessante colonna sonora che mischia l'elettronica in maniera però molto pesante cioè l'elettronica è presentissima insomma con la musica acustica con l'orchestra cioè il film mi era piaciuto molto ma la colonna sonora non mi era rimasta così tanto mi rendevo conto che mi aveva accompagnato per tutta la visione ma di per sé se dovessi pensare a cercare di ricordare è un lungo magma che piano piano si spande non c'è altro però trascende il concetto è molto bella io la trovo particolarmente interessante per dirle una se no avrei sparato Williams all'infinito è nato il 4 luglio intelligenza artificiale Star Wars insomma ce ne sono migliaia comunque per quanto riguarda l'utilizzo appunto della musica per il cinema che adesso abbiamo citato alcuni film alcune colonne sonore appunto che salveresti memorabili memorabili mi chiedevo se effettivamente c'è qualche colonna sonora magari inerente a qualche serie tv che ti ha colpito o che appunto anche lì salveremo da una catastrofe allora questa non me l'aspettavo una colonna sonora che mi ha colpito ma per un rapporto personale che ho avuto e cioè Michael Giacchino in Lost la serie Lost ho avuto l'onore insomma la fortuna di conoscere Michael Giacchino che era venuto qua in Italia e mi ha raccontato la genesi di questa colonna sonora che all'inizio doveva fare in due giorni praticamente quindi inseguendo il sincrono con le tastiere non c'erano soldi il budget era basso e in due giorni doveva comporre realizzare e finire una musica fatta solo con le macchine e poi quando finalmente il budget lo ha consentito la serie ha cominciato ad avere successo allora ha potuto godere di una piccola compagina orchestrale circa 30 elementi che l'hanno potuto supportare in maniera più più efficace diciamo più significativa rispetto però lui ha cominciato così insomma tra l'altro lui viene dai videogiochi aveva fatto uno stage alla Universal Picture hanno chiesto a tutti i partecipanti ad un corso che aveva fatto anche lui chi volesse andare alla Universal e tutti hanno abbassato le mani lo stage è gratuito e tutti hanno abbassato le mani tranne lui per cui è andato lì ha cominciato ha entrato racconta insomma che è uscito dall'ascensore e c'era Spielberg lì davanti e quindi insomma ha capito che forse era il posto giusto dove magari lavorare anche a gratis come si dice ma poi per ottenere un qualche tipo di e allora ha cominciato a lavorare nei videogiochi ma solo esternamente non come artista al dipartimento dei videogiochi della Universal il suo adattore di lavoro gli aveva il suo capo lo copriva di nascosto perché potesse andare alla Giulia da studiare musica e quindi lo segnava presente ma lui andava a studiare e poi finalmente insomma Spielberg gli chiese di fare la musica del videogioco di Jurassic Park e la produzione del videogioco la voleva fare con le macchine Spielberg si impose invece di farla con gli strumenti reali dice no per questo lavoro voglio gli strumenti veri è andata benissimo perché lui ha cominciato così facendo musica poi è andato alla Pixar ha fatto insomma le corone sonore che conoscete eccetera c'è una differenza magari sostanziale nella diciamo quello che è l'organizzazione nella creazione del cinema del film piuttosto che di una serie laddove invece il cinema è un medium da registi e la tv è un medium da produttori diciamo così il producer diventa anche e molto spesso è l'autore della serie la differenza con il film è soprattutto nella struttura il film si sviluppa in tre atti solitamente secondo questo paradigma di Field l'episodio della serie televisiva invece ha uno sviluppo in cinque atti ma questa divisione non è come dire determinata da un'esigenza narrativa ma è opportunistica perché in ogni spazio lasciato alla fine di ogni atto c'è un piccolo intermezzo pubblicitario e quindi la suddivisione in cinque atti è una suddivisione determinata dalla necessità di mercato diciamo così però per assolvere un po' insomma la serialità televisiva si può dire che questa divisione in cinque atti appartiene anche però concettualmente anche al teatro elisabettiano insomma a Shakespeare in particolare quindi insomma in qualche misura possiamo assolvere la serie regalando questa qualche sì qualche tipo di discendenza anche involontaria insomma con il teatro più nobile di Shakespeare